In commercio ormai ci sono un sacco di soluzioni per alimentare il Raspberry Pi, tuttavia in questo video ti voglio parlare di PiSugar. Non è nient'altro che una piccola scheda, grande quanto Raspberry Pi Zero, fatta apposta per alimentarlo senza dover ricorrere a saldature o circuiti da montare. È una soluzione pronta all'uso che ti permette di utilizzare una batteria lipo a singola cella e fornirti correnti per alimentare il Raspberry Pi Zero fino a ben 2,4A. Ciao, il mio nome è Lorenzo Neri e ti do il benvenuto sul canale di Elettronico Open Source. Iscriviti e attiva le notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutte le tematiche che affronteremo assieme. Dicevo all'inizio del video che ormai il mercato è saturo da soluzioni per alimentare Raspberry Pi, tuttavia in questo video ti voglio parlare, come dicevo all'inizio, di PiSugar. Non è nient'altro che una piccola scheda, grande quanto Raspberry Pi Zero, che è in grado, sì, di fornirti una corrente fino a 2,4A, ma al contempo ti dà la possibilità di scegliere qualsiasi batteria lipo a singola cella, quindi dalle 3,7V. Non solo. Come ho detto, o meglio anticipato all'inizio del video, questo circuito è praticamente esente da saldature aggiuntive. È fatto apposta per funzionare al momento dell'acquisto. Dove voglio arrivare? Su Raspberry Pi, in generale, non solo sullo Zero, ma praticamente tutte quante le versioni, sulla scheda stessa ci sono due connettori. Due connettori che non sono nient'altro che due aree conduttive che permettono di far sì che Raspberry Pi riceva alimentazione. Questa scheda, di fatto, funziona un po' come un panino. Noi abbiamo il Raspberry Pi Zero, abbiamo questa scheda, ovvero PiSugar, li mettiamo uno sopra l'altro e voilà, abbiamo risolto il problema dell'alimentazione. Da qui la non necessità di ricorrere a saldature. Ovviamente il sistema di ricarica come funziona? Anch'esso, così come Raspberry Pi Zero, ha una porta micro USB che permette di ricaricare la batteria che abbiamo collegato alla scheda. In aggiunta a ciò, tramite questo sistema di ricarica per la batteria, abbiamo la possibilità di continuare a utilizzare Raspberry Pi Zero come se nulla fosse. Quindi è un sistema di ricarica e utilizzo a tutti gli effetti. Parliamo un attimino delle due varianti, perché ovviamente con 2,4A mi rifaccio la versione L. Quindi PiSugar L offre una corrente fino a 2,4A e dà una vita, o meglio un'aspettativa di vita durante l'utilizzo di Pi Zero fino a circa 6 ore di utilizzo intensivo. C'è invece la variante leggermente più economica e più ridotta che dà 1,2A di corrente di alimentazione. E in questo caso l'autonomia prevista da questo sistema è di circa 3-4 ore. Ma perché mai ti ho voluto far vedere questa soluzione? Beh, innanzitutto dal punto di vista delle dimensioni stiamo parlando di una cosa veramente compatta. Alla fin della fiera si tratta di un PCB, grosso quanto un Raspberry Pi Zero. Quindi in termini di dimensioni non va nemmeno a intaccare la tua soluzione e il tuo progetto. Ma non solo, è stato congegnato apposta per contenere anche il peso. Con tanto di batteria arrivi, se proprio vogliamo esagerare, a circa 60 grammi di peso complessivo, Raspberry Pi Zero incluso. Io naturalmente se volessi scoprire di più su Pi Sugar ti lascio qua in descrizione al video i riferimenti per scoprire come funziona e come è strutturato, ma soprattutto dove poterlo acquistare. Ma naturalmente se avessi qualsiasi dubbio o domanda legato a questo piccolo progetto ti invito a lasciarli qua nei commenti.